Pausa caffè puntata 110 scena 1 Ciao Marcello Oh Stefano Ma sentina cosa, cosa ne pensi tu del mago? Allora guarda Capisco che è il tuo primo o secondo giorno di lavoro Qui al posto della signorina Ophelia Però secondo me prima di fare assunzioni strambe A dir poco strambe Dovresti forse chiedere il parere del direttore Ma io per questo sono venuto da te Anche perché non conosco come lavora il direttore E non conosco neanche i budget della televisione Quindi lui può fare delle richieste Allora guarda che io sappia La televisione non ha problemi di budget Però il problema è trovare presentatori Che facciano programmi di qualità E secondo me uno che si chiama Rubinio Le Cozzi Quindi tu mi consigli di fargli fare Diciamo un apprendistato Gli facciamo fare una settimana Vediamo come funziona Intanto secondo me dovrebbe stare a portare Curri Fare provini Non leggere le carte e le mani a nessuno Perché spara solo festerie Insomma parlate con Nadia Scimone Il direttore Vedrai che anche lei sarà del mio avviso E forse è una buona idea Ma dove la posso trovare adesso il direttore? Eh il direttore sta nel suo mega galattico ufficio all'ultimo piano Lattico Senza scensore Senza scensore Ma dai ma quale mago Pippo Sta facendo un sacco di festerie nei corridoi Comunque bravo A fare che? In alcune cose che ho visto io è bravo Poi che ti devo dire? A cucinare le cozze Comunque sostanzialmente è successo questo Lui è venuto qua Si è presentato Ha conosciuto anche a Stefano Scibilia Lo sai Il nuovo responsabile del personale Alla fine Stefano è andato sopra A parlare con il direttore Adesso insomma Spero che non lo assumino Ecco te lo dico chiaramente Eh il direttore ancora non ti ha detto niente? Eh no non l'ho visto oggi Ah no perché qua in giro era Marcello buongiorno Oh signor Pippo buongiorno Senti il direttore sopra non c'è quindi E dobbiamo rimandare il contratto Finché non ci dà il parere favorevole non possiamo Vedete questa sì che è vera provvidenza Il direttore scomparso non si può fare il contratto Questa è una vera e propria magia a nostro favore Bella dritta però che mi hai dato Che il direttore ha la cucina Ma c'è qualcosa di strano perché Sugli scaffaletti sul tavolo Sai cosa ho visto? Soltanto verdurine Zucchine Tutte... Eh beh sì Ecco ora capisco perché il direttore Tra l'altro ora il signor Pippo con il signor Gaetano Hanno fatto l'azienda agricola quindi il direttore insomma Mi sa che mi conviene andare a pranzo da loro però Perché vedendo... Volentieri, volentieri, volentieri Ma che c'è da... Guardi, guardi non me ne parli Non me ne parli Ero a sistemare i documenti nel nuovo ufficio Che mi sono trasferito da un paio di giorni Ecco Togliendo i documenti dallo scaffale Va a parte un plico e mi va a sbattere precisamente in testo E lì dentro cosa c'erano? C'erano dei trucchi Questi trucchi Si è aperto il cofanetto e E queste sono le conseguenze La prego La prego Dica la verità Perché io ho conosciuto sua moglie Avanti Dove l'ha vista sua moglie per fargli questo coso? Ma no Quali trucchi? Ma cosa va a... I trucchi nell'ufficio Ma cosa va a pensare? Signor Pippo Mica sono come lei Che conosce Ma non dica Ferseri Queste frasi di Anna, Argentina Un giro un po' particolare Stiamo andando a colpi di nervi scomenti No, noi siamo qua gente Grande 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 No, no È stato il plico Il plico Prendiamo la cosa Come dice lei? Va bene L'importante è non prenderla in quel modo Signor Crescenti Mi sa che lei Cerca di sforare No, no, no Io non sforo mai Né il budget Né il tempo Dei miei programmi Quindi? Per il budget Vado ad aspettare il direttore Vediamo un pochettino Eh, quello sì Con permesso Prego, prego Prego, prego Che gli vai a dire Che gli dico La verità Gli ho detto Ma conosci veramente sua moglie? Sì, certo che la conosco Ma questa redazione è diventata veramente una soppopera Altro che Pericolosa Pericolosa Perché siccome sa che lui Ragazzinetti Se capisci Altro che plico con i trucchi I trucchi Ce li voleva dare A noi Va bene Invece Lì È stato qualche colpo di legno Mamma mia Guarda Pippo Torno a lavorare Che è meglio È meglio Meglio Arrivederci E tanti auguri Come dissi Ambramolini Tre secondi Si chiude Ch dense Non Come dissi Ma Pippo Fa Varo Ma 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 Quessi Pippo Cons On Sta Ma